Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini Di deposito di rifiuti speciali, quindi una marea di copertoni che a breve ci aspettiamo che vengano a bruciare Tutti questi fumi famosi della nostra area, questi sono uno di quei punti Già qua sulla destra ci sono i cumuli di già roghi avvenuti nei giorni passati E' veramente una cosa avvilente, se solo pensiamo che questo dovrebbe essere l'ospedale del mare Quindi già il nome, l'ospedale del mare, poi in una situazione alle falle del Vesuvio E con una visione di questa portata veramente ci fa cadere proprio le braccia Questo fra l'opera un incendio era anche questo Sì, ce l'aspettiamo che siano stati depositati proprio per questo motivo qua Ma mi dicevi che addirittura ci sono dei rifiuti tossici Ma è probabile che ce ne sono, a parte che ci sono tutti i depositi dei lavori che sono stati fatti Quindi già questo dovrebbe essere, se è una zona dove non siamo riusciti ad entrare C'è la vigilanza, dovrebbero anche vigilare sul deposito di questi materiali Che sono di edilizia o comunque materiali speciali come in questo caso vediamo i copertori Passando qua alle spalle dell'ospedale del mare E abbiamo visto che sono stati depositati i camion di copertori Quindi ci aspettiamo che al più presto ci appiccano il fuoco Lo vogliamo segnalare che è stato fatto questo Perché veramente, a parte che non è la prima volta che pare che appiccano il fuoco là dietro Perché ci sono altri cumuli Allora, noi siamo praticamente, lei conosce l'ospedale del mare a Ponticelli A Ponticelli, proprio dietro, alle spalle, dietro le inferriate ci sono questi cumuli ma enormi di copertori Allora, già ce ne sono altri che sono stati afficcati Vorremmo evitarci questa diossina Quindi le stiamo chiedendo la cortesia di segnalare agli organi di competenza Di venirli a recuperare prima che ci appiccano il fuoco Ho appena chiamato ai vigili urbani per segnalare che dietro alle spalle dell'ospedale del mare Ci sono stati depositati una marea di copertori E ci aspettiamo che al più presto vengano a bruciarli Allora, già ci sono stati depositati